Nuove risorse per l'assunzione dei disabili. Si è conclusa la seconda annualità del bando dote impresa a collocamento mirato, approvato dalla provincia di Lecco. La misura prevede contributi, sotto forma di bonus una tantum, alle imprese private per sostenere l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro di persone con disabilità e alle cooperative sociali di tipo B per la creazione di nuove imprese sociali o rami di impresa cooperativa per favorire l'assunzione e la transizione verso altre aziende di persone con disabilità. Per le annualità 2017-2018 sono pervenute alla provincia di Lecco 187 domande di ambizione all'incentivo dote impresa e una domanda a quello dote impresa cooperazione sociale. La provincia di Lecco, unica tra le province lombarde, ha completamente esaurito già lo scorso 31 agosto le risorse economiche assegnate per complessivi 1.400.000 euro. In considerazione dell'ottimo risultato raggiunto la regione ha previsto il finanziamento di dote impresa anche per il 2019 per un importo di circa 600.000 euro. Le imprese beneficiari degli incentivi all'assunzione sono state 157 e i contratti a tempo indeterminato 51. Visto gli importanti risultati raggiunti in termini occupazionali e per dare continuità alla promozione delle politiche a favore dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, la provincia di Lecco ha deciso di incrementare il finanziamento regionale con risorse proprie per ulteriori 500.000 euro, riuscendo così a sostenere tutte le richieste pervenute dalle aziende nel 2018 e non finanziate per esaurimento delle risorse. In merito al sostegno alla cooperazione sociale finanziato dalla dote impresa si segnala un importante progetto attivato dalla cooperativa sociale Paso Lavoro di Mirate che ha beneficiato del contributo regionale per la costruzione di un nuovo ramo di cooperativa sociale legato al progetto Tecno Ortus, l'orto a misura 4.0, grazie alla collaborazione instaurata con l'azienda Tecno Probe di Cernusco Lombardone. Il progetto ha visto la realizzazione di un giardino comunitario all'interno dell'azienda in cui sono presenti un orto, un frutteto e un luogo in incontro e vendita di prodotti a disposizione dei dipendenti dell'azienda e della comunità circostante. Inoltre il progetto ha previsto l'assunzione di due persone con disabilità e la creazione di ambienti di lavoro destinati alla formazione di cinque persone beneficiari di un educatore e di una borsa lavoro della durata di 12 mesi. Un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato commenta il consigliere provinciale delegato al lavoro Giuseppe Scacca Barozzi per promuovere al meglio l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. I buoni esempi sono stati di richiamo e altre aziende stanno sperimentando la creazione di orti.